Si prospettano a Pasqua da boom di arrivi nell'isola, traffico record negli aeroporti sardi, soprattutto su Cagliari e Olbia. Nello scalo gallurese per le giornate più calde, dal 13 al 18 aprile, si stima un flusso di circa 31.000 passeggeri con una crescita del 179%. Rispetto alle festività 2016 a marzo ci saranno 19.000 persone a bordo in più. Benissimo anche a Cagliari, la crescita dei movimenti si attesterà al più 30% rispetto allo scorso anno, con una percentuale di aumento dei posti offerti dalle compagnie intorno al 28,5%. Il numero totale dei passeggeri in partenza e in arrivo a Cagliari avrà un incremento compreso tra il 21% e il 26%, tra il 13 e il 17 aprile previsti 396 movimenti per un totale di 50-52.000 persone a bordo. Sono le proiezioni per i prossimi giorni delle società di gestione dei due scali, Soga, Regge e Hazar, un vero e proprio test in vista dell'invasione estiva dei turisti. Per lo scalo di Alghero si passa da 136 movimenti totali del 2016 a 166 per la Pasqua 2017, con un aumento percentuale del 22. Nelle festività pasquali dell'anno scorso hanno transitato oltre 18.000 passeggeri, quest'anno la previsione è di quasi 27.000 con un incremento del 44%. Per quanto riguarda il dettaglio dei nazionali, secondo i dati forniti da Sogeal, per quelli internazionali che sono in numero nettamente inferiore di movimenti, si parla di un incremento dell'87% rispetto allo stesso periodo festivo del 2016. Un vero e proprio test in vista dell'invasione dei turisti nella stagione estiva. Si tratta infatti del primo vero weekend festivo della stagione, a cui seguiranno il ponte del 25 aprile, quello del 1 maggio e del 2 giugno. Grazie a tutti.